Nel 1986 sono entrato a far parte del team di questa azienda. Già da allora le macchine di persocolata Hydra erano presenti. Attualmente disponiamo di 40 isole che variano da 420 a 2000 tonnellate. Di queste 28 sono Hydra. Nell'esperienza poi maturata in tanti anni di utilizzo delle macchine Hydra ho potuto constatare e toccare con mano la qualità dei materiali di progettazione e costruzione che garantiscono ottime performance e consentono il pieno controllo del processo e della qualità dei getti. Ritengo che l'interfaccia uomo-macchina per la gestione dei parametri sia molto ben fatta, chiara e intuitiva oltre che ben dettagliata. Con il service Hydra poi abbiamo avuto più occasioni per poter testare l'efficacia e forse da remoto o in loco, di riparazione o di modifiche da noi richieste, il risultato ottenuto ha sempre dato esito positivo sia nella soluzione del problema oltre i tempi rapidi di risposta. In sostanza posso sintetizzare la descrizione del service Hydra con queste tre parole rapidità, competenza e qualità.